I know, I know this girl. I know. Me too. Another big fan. Sono un ticato di un disegno che avevo, che volevo che lui mi firmasse. Di Pokémon. No, era portato. Vabbè, torna a Martedì. Porta Martedì. Perché è grande. Vuoi fartelo firmare, Sofia? Come? Già fatto? Che fortunata è stata. La mano, la mano. No, va. No, sono scappato. Tu pensa che tutto va in beneficenza per i bambini dell'Unicef? Pensa a quello. Che cosa vuoi fare. Fai il posto. Mi fa un po' io. Se che cosa vuoi fare? Ah, ah, ah ah, ah ah. Dai Francesco. Metti. C'è nessun altro per Bobby? Ok, arriva. Anche te, vai Francia, Luca, va a prendertelo. Raggiù. Vuoi vedere questo sorriso di questa ragazza? Mi togli quattro libri? Quattro e quattro? Grazie. 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 Lo so, lo so. Anche lei ha avuto. Ah, ok. Luca, mi fai indire la telecamera quella lì, per favore? No, Carlo, un'altra volta. Quattro e cento volte. Lo faccio fatto poi, Carlo. Aspetta un po'. Ah, approfittati. Lo vuoi? A che serve? Per attaccare una cornice. Per fare un quadretto a casa. Lo so. E ora ti diamo un altro, se vuoi, tesoro. No, no, ok. Lo faccio io, vieni. Perché lo sto facendo con questo. Questo è il ruolo che deve essere fatto. Mi spegni questo. Questo è il ruolo che deve essere fatto. Grazie.